e adesso va bene discutere discuteremo non è che possiamo stare qua sette ore tutte le volte ogni riunione dai che sono già le sette che mi aspetta a casa che c'è il risotto tiziano dammi i fogli qua allora hai messo dentro tutto aspetta qua tiziano anche quelle spese mie e tue quelle lì per lo sai te beh beh no no niente niente da dire stiamo di preoccupare che la roba che ti devo dire allora 160esima sagra dell'occo pitoco 160 vabbè è un numero a caso tanto nessuno c'era quegli anni lì non è che può dire non è vero che sono 160 anni non c'eri scusa lo sopra noi che siamo gli organizzatori o no? Aristide o no? ecco Aristide lui è l'anziano non lo sa ore 6 quest'anno novità gara di polenta salame eh sì l'anno scorso era così non competitivo quest'anno invece gara chi vince se porta a casa due salami grossi come il mio del macellaio qua e il prastelli il prastelli fa dei salami ottimi che mettono dentro della roba strana alle 7 purtroppo la messa insomma la parrocchia insiste sempre Don Graziello vuol fare la messa ci ho detto eh Graziello Aristide ho detto stringi qua perché l'anno scorso l'ha fatta un po' lunga ci stavamo inviocando avevamo già bevuto un paio di bicchieri vabbè finita la messa c'è il momento clou della giornata benedizione dei trattori di chi ha il trattore più bello? è il mio deve starla avanti l'anno scorso il Tony mi ha fatto lo scherzo me l'ha messo dietro al Tony ci si è bruciata la macchina dopo una settimana non so se c'è bisogno che dico altro eh eh ma mattina lì alle 10 così c'è l'animatore che ci porta in giro fa un giro turistico nelle zone più spettacolari qui del nostro posto tra le varie tappe ci abbiamo inserito Tana delle Nutrie discarica di roba vecchia buttata via discarica abusiva con gran finale all'età maio dal Mirto Mirella andiamo là e ci portiamo ognuno un po' di umido scarti del salame una fetta di polenta che è caduta per terra così come si fa con gli mangiare questi santi ma non so sono robe del Brasile dov'è Brasile? Aristide? ore 12 prancio sociale allora qua bisogna dire una roba prancio sociale organizzato dal signore della parrocchia il signore della parrocchia lo sapete solo un po' così durante il pranzo non si può bestemmiare forte tenetene un po' dentro che tanto poi c'è la gara di briscola e ci sfoghiamo ore 2 tombolata per il signore e gara di briscola per noi gara di briscola ovviamente iscrivetevi tanto alla fine vinciamo sempre io e Tony ma insomma almeno partecipate vedete come giocano i campioni grande Tony alle 6 e Don Graziello vuole fare un'altra messa ma è un rosario rosarito veloce ci mandiamo il signore noi facciamo un aperitivo non competitivo una roba così alla sera poi cena risottata offerta dal comune e grande show musicalicio anche quest'anno riconfermato fringuello e le pettirosse le pettirosse ovviamente se le avete viste ah le coliste tra l'altro a fine serata qualcuna l'ho sentita cinguettare dietro il palco lì nel buio che cinguettava che ci dava ah chi c'era là gran finale spettacolo pirotecnico non lo facciamo quest'anno non c'è il budget non c'è il budget insomma quello dei mangimi c'è da due sacchi di mangime al macellario c'è da due salami non cambia niente però è il Ciro Napoli qua si porta giù due bombe carta che il suo cugino gliele procura le portiamo lì nel campo papin papun due botti così i bambini sono contenti è finita la serata dai su che devo andare a mangiare risotto dai mettete tutto a posto i soldi nella cassettina e Tiziano a presto a presto ciao 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 ciao